Quando i bimbi più piccini dai tre anni in su si presentano da noi sicuramente devi fare anche un po' da mamma perché comunque piangono, perché si sta il primo distacco dai genitori e sicuramente hanno anche un po' paura dell'acqua quindi sicuramente bisogna accoccolarli, farli sentire tranquilli e puntiamo tutto sul gioco quindi vari tappetoni, lo scivolo, comunque la stellina in acqua e le bollicine Qual è la loro reazione al primo contatto con l'acqua? Dipende un po' dai bambini, nel senso alcuni bambini sono molto più lanciati e alcuni sono un po' più diffidenti quindi bisogna sapersi comportare in entrambi i modi Quali sono i livelli iniziali della scuola nuova? Allora noi iniziamo dai girini, quindi dai tre anni e poi ci sono le stelline le stelline fanno parte dei quattro anni in su Si gioca, ci si diverte, che rapporto create voi istruttori tra voi e con i bambini? Tra di noi sicuramente andiamo molto d'accordo e ci aiutiamo a vicenda per consigli, per parlare invece con i bimbi saremmo un bellissimo rapporto è come se loro si sentissero a casa